Musica Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione pomeriggio animato, ieri ad Acireale, suicidio sventato nel palazzo del turismo, salvato da un usciere, un uomo che stava per darsi fuoco. Ai nostri microfoni il racconto del dipendente eroe. Parla Salvatore Principato, l'usciere eroe del comune di Acireale che ieri pomeriggio si è lanciato addosso ad un uomo di 38 anni che in preda alla depressione per mancanze di un lavoro stabile, si è recato nel quartile interno al palazzo del turismo, a sede provvisoria del comune, cospargendosi il corpo di benzina ha deciso a darsi fuoco con un accendino che teneva in mano. L'azione fulminia del coraggioso dipendente pubblico che ha atterrato la sperante suicida ha evitato il peggio. Il successivo intervento di due vigili urbani in servizio in piazza Duomo e quello del sindaco Barbagallo, richiamato dal trambusto mentre si durava nel suo ufficio, ha riportato la calma. Un gesto che andrebbe sottolineato da parte dell'amministrazione comunale con un encomio per aver salvato un uomo in preda ad un evidente momento di prostrazione. Io non sono un eroe perché ho fatto una cosa che dovevo fare, ce la facevamo tutti. Ho visto questo signore con la bottiglia che è entrata e se la spassa tutta addosso e che dovevo fare. Ho visto la situazione e mi sono buttato addosso, ho tolto l'accentino e... Insomma è andato in ascandescenza lui perché sono stati momenti di tensione. Lui era un po' depresso, si è visto subito che non era fuori di testa. Poi sono arrivati a Vigili Urbani? Sono arrivati a Vigili Urbani, mi hanno aiutato, poi è sceso il sindaco, ci ha parlato, l'ho convinto di stare calmo. Ma l'ha visto il sindaco si è calmato? Certo, sì, quando è sceso il sindaco si è calmato, ha dialogato con il sindaco, tutto a posto. Lei è abituato a questo tipo di interventi? Quasi ne vedono sempre, non dico tutti i giorni, ma quasi tutti i giorni. Figli contesi da genitori separati, i bambini affidati alla madre tedesca e il padre costretto a vederli solo su Skype. La donna per il momento non potrà lasciare l'Italia, lo ha deciso il giudice. Noi abbiamo raccolto l'appello del papà. Ancora Couturi. Lui italiano, docente universitario, lei tedesca, l'amore, il matrimonio e l'arrivo di due figli. Poi la crisi coniugale, il divorzio e una battaglia legale che sta suscitando molta curiosità per la decisione di un giudice che ha concesso al padre, caso anomalo, di incontrare in video i propri figli su Skype durante i giorni a lui riservati. Apre di cielo, l'avvocato Peppino Lipera ha fatto fuoco e fiamme e su questa vicenda è deciso di andare silo in fondo, senza esclusione di colpi, perché nel frattempo in questa brutta storia coniugale è entrato di propotenza il suocio che avrebbe credito l'uomo alla presenza dei figli, sferrandogli un pugno che gli ha procurato la rottura del setto nasale. 15 giorni di prognosi, il padre rivendica il diritto genitoriale di crescere i propri figli, la madre vorrebbe portarli con sé in Germania e il giudice al momento ha deciso di affidarli alla madre che ha l'obbligo però di non allontanarsi dal territorio italiano. Una storia come tante, con figli, come spesso accade, oggetto della disputa e l'appello di un padre che vorrebbe accudire i propri figli senza dover ricorrere alla tecnologia per incontrarli. Abbiamo raccolto il suo sfogo. Ritengo assolutamente anomalo perché si inserisce in un contesto diverso da quello in cui è stato adottato, perché io se sono in una conferenza a Stoccolma posso capire che posso soffrire di Skype per salutare mio figlio ma non per impiantare un rapporto padre-figlio che deve durare tutta la vita. Quindi non commento su questo perché è evidente dove sta il giusto. Io posso rispondere dicendo semplicemente che come la legge prevede l'interesse primario è dei bimbi. I bambini sono innamoratissimi di papà e di mamma. Durante questi 50 giorni che ho avuto la grazia, l'opportunità di vivere insieme ai miei figli, ho visto la serenità, il desiderio di riappropriarsi di un diritto naturale che era stato loro negato, non per colpa del giudice, ma per colpa di una situazione non andata nel verso come doveva andare. Furto con spaccata la scorsa notte ad Adrano, nel Catanese, sfondata in via Calcagno, nella zona Cappuccini, la vetrata del negozio d'abbigliamento per bambini. Qui si può rubata merce per 10.000 euro. I ladri hanno agito a bordo di un veicolo con il quale hanno prima scardinato la porta in ferro e poi mandato in frantumi la vetrata, rubati tutti i capi d'abbigliamento esposti e la cassa che conteneva alcuni spiccioli. Sono stati alcuni residenti a lanciare l'allarme, svegliati di soprassalto dal forte botto. Sul posto si sono recati gli agenti del locale commissariato di polizia che indagano sull'accaduto. Sono stati ritrovati alcuni pezzi di fanali rotti che potrebbero far risalire al modello dell'auto ariete utilizzato, anche se con molta probabilità si tratta di un mezzo rubato. Il negozio era sprovvisto di copertura assicurativa. Bancomat e carte di credito clonate, arrestati dalla polizia a Catania due bulgari, sequestrate centinaia di carte elettroniche e attrezzature informatiche. Sentiamo Rosaria Rinaudo. Avevano già manomesso decine di banchi e veri professionisti dello skimmer, clonatori di carte di credito. Truffatori bulgari in azione a Catania in due ventenni sono stati arrestati dagli agenti del compartimento della polizia postale e delle telecomunicazioni, sono stati trovati in possesso di centinaia di carte di credito clonate e di apparecchiature, skimmer per l'appunto, utilizzate per ottenere dati informatici delle carte di debito o di credito. I due bulgari sono stati identificati giorni fa nel centro di Catania da un equipaggio delle volanti della questura etnea e rinunciati a piedi libero per detenzione di alcune carte di credito clonate. E' stata la polizia postale ad avviare un'indagine ritenendo sulla base delle esperienze passate che i due cittadini bulgari si trovassero in città per clonare o utilizzare le carte già doppiate. I poliziotti hanno incrociato i due a bordo di uno scooter mentre si aggiravano per le vie cittadine e li hanno pedinati. Durante la successiva perquisizione sono state trovate le sofisticate apparecchiature informatiche di ultimissima generazione, micro telecamere, 200 carte di credito in tutto, 17 mila euro in contanti, alcuni computer portatili. Il pubblico ministero di turno Vincenzo Serpotta ha convalidato gli arresti e disposto il trasferimento nel carcere di Piazza Lanza. La polizia di Stato ha scoperto a Catania nel villaggio Ippocampo di Mare un bar gestito abusivamente da un sorvegliato speciale con annessi, un emporio, un negozio di generi alimentari ed un bar e anche una pizzeria che utilizzavano l'acqua di un pozzo e non quella dell'acquedotto. La titolare della licenza, una donna di 67 anni ed il reale conduttore, sono stati denunciati per frode commerciale e cattivo stato di conservazione degli alimenti. Gli agenti hanno anche elevato una sanzione superiore ai 20 mila euro. La pizzeria, con annesso servizio ai tavoli, con banche e posti a sedere, era priva di qualsiasi autorizzazione comunale, nonché di registratore di cassa. Mariuana e cocaina in auto, arrestato a Catania dalla polizia un 28enne. Giuseppe Alfieri, l'uomo è stato fermato ad un posto di blocco, incontrato a Passo Martino, a bordo di una Volkswagen Golf. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato una busta sotto vuoto, contenente 985 grammi di marijuana ed un altro involucro con circa 105 grammi di cocaina in pietra. Scusate, Alfieri è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza a Catania. E ancora, ubriaco, investe un ciclomotore con a bordo due giovani e scappa. È accaduto nei giorni scorsi ad Acireale. La polizia e i vigili urbani hanno identificato e denunciato un acese di 48 anni. Dovrà rispondere di guida senza patente ed omissione di soccorso. Cambiamo argomento. Il processo per voto di scambio a Raffaele e Toti Lombardo, chiesti un anno e due mesi di reclusione per l'ex governatore, l'ex presidente della regione siciliana, si sfoga dal suo blog. Il voto di scambio nelle trasmigrazioni si definisce vittima. Raffaele Lombardo, dello stesso reato per cui è processato insieme al figlio Toti in una delle vicende giudiziarie che lo riguardano, per il quale la procura di Catania ieri ha chiesto una condanna di 14 mesi per 5 anni di interdizione dei pubblici uffici. Dal suo blog l'ex governatore lancia in rete il proprio sfogo denunciando scambi di favore e corruzione dietro i cambi di casacca al comune di Catania. Una percentuale di queste trasmigrazioni sono motivate da assunzioni di parenti e da potenziamento del conto in banca. A Catania è di dominio pubblico che gente ha cambiato partito perché ha avuto soldi, che gente ha cambiato partito e ha dato voti sotto elezioni, ma non soltanto sotto elezioni, perché gli hanno assunto il figlio, il parente, lo zio, eccetera. I PM hanno chiesto 10 mesi per Lombardo Junior. La sentenza di primo grado è vicina. Lombardo, che respinge ogni accusa, confida nel coraggio dei giudici perché ce ne vuole ad assolverlo. Sul mio personaggio è stato costruito da tempo un mostro. Poi invita la magistratura a far luce anche su quanto è accaduto sotto il suo governo. Sono una vittima del voto di scambio perché le trasmigrazioni che si sono verificate in questi ultimi anni dall'opposizione alla maggioranza, dall'opposizione al governo sono un'infinità. E noi, paradossalmente, il segretario del mio partito nel febbraio 2013, quando questa indagine non era neppure partita, le ha denunziate. Però lo hanno fatto anche i grillini, potersi che la procura di Palermo riprenda questa inchiesta. Andiamo avanti con il nostro giornale. Addio al contrassegno assicurativo per le auto. Al suo posto arriva un microchip elettronico. Scopriamo cosa cambia per gli automobilisti. Le compagnie però non ci stanno. Francesco Larosa. Tra un mese, esattamente a partire dalla 18 ottobre prossimo, i contrassegni delle assicurazioni RC Auto spariranno dai parabrezza delle auto, in applicazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha avviato la cosiddetta dematerializzazione, facendo cadere per gli automobilisti l'obbligo di esposizione del Tagliando Giallo e introducendo importanti novità. Si tratta di una vera e propria rivoluzione digitale, che ha convertito il sistema di controllo sulla regolarità dell'assicurazione, passato dalla cartaceo al formato informatizzato, con due importanti obiettivi, quello di ridurre le frodi e la contraffazione dei contrassegni e combattere l'evasione dell'obbligo assicurativo tramite controlli incrociati telematici tra le banche dati delle targhe dei veicoli e quelle delle polizze assicurative. Cosa significa ridurre le frodi? Far sì che più di 3 milioni di veicoli circolanti in Italia, che non sono coperti di assicurazione, ritornino ad essere assicurati. Questo potrebbe essere una cosa molto interessante, in modo particolare per gli utenti, per i consumatori, che in questo modo le compagnie, poi il cliente ritorna ad assicurarsi, quindi incassano di più e quindi potrebbero rivedere in meglio le tariffe assicurative e quindi ridurre notevolmente i grossi premi assicurativi che si pagano per le ricci auto. Oggi come oggi, con la crisi che c'è, il cittadino italiano, la prima cosa che fa è quella di risparmiare proprio sulle assicurazioni. Le compagnie, come dicevo, potrebbero andare a incassare di più perché viene molto più semplice con il database che ormai è a disposizione e quindi potete controllare i veicoli delle auto e quindi capire se quell'auto è assicurata o meno e ci saranno delle sanzioni abbastanza pesanti per coloro i quali non sono assicurati, ma per coloro i quali tornano presto le compagnie ad assicurarsi, quindi come dicevo le compagnie incassano di più e quindi c'è un beneficio per i clienti che si vedono ridurre le proprie tariffe assicurative. Difficoltà economiche per il comune di Catania, a rischio gli stipendi dei dipendenti, ma anche alcuni servizi per i cittadini, l'assessore al bilancio Girlando però rassicura. Piangono le casse del comune di Catania che attendono circa 70 milioni di euro di trasferimenti statali. A rischio questo mese i pagamenti degli stipendi dei dipendenti di Palazzo degli Elefanti dato che le risorse non arriveranno, pare, prima di ottobre inoltrato. Ieri il sindaco Enzo Bianco, che è anche presidente del Consiglio del Lancio e l'Associazione dei Comuni Italiani, ha avuto rassicurazioni dal Ministro dell'Interno Alfano a margine di un incontro sulla sicurezza. Purtroppo questo ritardo dei trasferimenti statali fa sì che queste somme, che prima, appunto, come dicevo, erano accreditate nel primo semestre, arriveranno o a fine settembre o, diciamo, i primi giorni di ottobre. Catania in Alfano e questi giorni al caldo si è giunto lo sciopero dei neturbini che rivendicano gli stipendi. Nessuno l'ha detto che il comune di Catania relativamente ai pagamenti delle fatture oico se è in tempo, cioè quello che viene chiesto è un pagamento anticipato delle somme per pagare. Ma noi, come comune di Catania, rispettiamo i tempi di pagamento e oggi, nei confronti delle fatture oico, non ci sono fatture scadute. E poi ci sono le aziende che avanzano crediti per lavori già da tempo consegnati. Per esempio, il Tondo Gioveni, queste risorse da dove verranno prese? Anche da questi fondi che devono arrivare, questi trasferimenti o è un'altra storia? Sono, diciamo, quelle sono altre vicende anche perché una cosa sono le spese di parte corrente, le spese di parte capitale, queste tengono a somme imputate nei capitoli di spese di investimento che devono anche passare, non riguarda solo un problema finanziario, ma anche del percorso contabile e amministrativo degli atti che si devono porre in essere. Voltiamo ancora una volta a pagina, ci spostiamo a Gravina di Catania dove ha preso il via il Festival della Birra arrivato alla terza edizione in programma iniziative sino a domenica 27 settembre. Gravina di Catania per oltre dieci giorni capitale del divertimento e del buon bere e mangiare al via la terza edizione del Festival della Birra e dello Street Food organizzata dalla New Events Group con il patrocinio del Comune. Nuova location quest'anno per la manifestazione che ogni anno richiama migliaia di visitatori. Non più la villa comunale ma il parcheggio del centro commerciale Catanè ospita gli stand eno gastronomici e fieristici. Più stalli per la sosta delle auto e un numero maggiore di posti a sedere con un mega tendone allestito nello slargo all'aperto per accogliere sempre più amanti del boccale d'oro. Ieri serata inaugurale alla presenza del sindaco Domenico Rapisarda del presidente del Consiglio Comunale Rosario Ponzo e del direttore del centro commerciale Catanè Rocco Ramondino. Inizia la terza edizione tutta rinnovata completamente come allocazione di tutta la fiera ma noi siamo sicuri che anche quest'anno Grevina sarà ospitata da tanti visitatori da tanti giovani, da tante famiglie che hanno la volontà di trascorrere qualche minuto di condivisione, di allegria e di spensieratezza anche. Abbiamo deciso quest'anno anche nello spirito delle iniziative Spazi da Vivere che è il love motive di IGD che è la società proprietaria del centro e il consorzio del centro commerciale Catanè che è il tempo per te quindi il tempo migliore che quello di organizzare qui degli eventi di alpio respiro come il festival della birra ospitando le nostre aree e creando una sinergia anche per il futuro per eventi di questo genere. Non solo birra, carne e dolciumi ma come ogni anno anche artigianato prodotti per la casa Luna Park per i più piccoli e spettacoli ieri ad intrattenere gli avventori della seconda serata i cavalli e i fantini del gruppo catanese di arte equestre. Noi siamo nei parcheggi esterni e i parcheggi interni ci hanno dato il permesso di poterli utilizzare fino a luna di notte perciò avremo anche 1500 posti auto. Io dico che sarà un grande successo da domani alla fine abbiamo Mariella Nava, Marin Cudine, Binzi e tanti altri c'è Antonio Monforte tantissimo ora dimentico qualcuno ma c'è un gruppo veramente favoloso che sono i matrimia di Palermo io penso che li conoscono in tanti ma qua a Catania un po' meno perché forse non so perché siamo catanesi però sono veramente eccezionali. siamo allo sport al calcio domenica alle 15 il debutto del Catania a Matera nel campionato di Lega Pro nella terza giornata di campionato gli etnei dovranno recuperare le prime due ma intanto a Torre del Grifo continuano le presentazioni dei nuovi ingaggi. Catania pronto al debutto in campionato fissato per domenica prossima in quel di Matera gara in trasferta per gli uomini di Pancaro che mirano ad annullare quanto prima possibile il gap dei nuovi punti di penalizzazione per il debutto casalingo invece la Lega ha stabilito che il Catania giocherà contro l'Ischia e Isola Verde il prossimo sabato 26 settembre con l'inizio alle ore 15 intanto continua la presentazione dei nuovi arrivati ieri è stata la volta tra gli altri di Caetano Calil attaccante di sicuro valore proveniente dalla Salernitana che potrebbe essere l'elemento qualitativo in più nel reparto d'attacco rossazzurro. l'ho accettato per un paio di motivi uno è perché Catania è una città è una società è una squadra che non merita questa piazza e vengo qua per fare riportare dare una mano a fare riportare la squadra nel posto che merita e poi perché ho avuto un grande feeling con la dirigenza con la società e che l'ho sposato proprio il progetto perché per me io stavo anche bene lì a Salerno facevo la serie B e mi piacciono le sfide mi piacciono le sfide difficili voglio so che qua sarà un anno durissimo però voglio affrontare con il piede giusto perché credo che posso dare una grossa mano a questa società sono un giocatore che più o meno gioco per la squadra mi piace stare sempre nel vivo del gioco non mi piace essere un punto fermo in una determinata zona di campo mi piace girare lì in zona di attacco mi piace fare gol quando non mi capito di fare gol mi piace aiutare i compagni credo che la mia caratteristica più importante è quando ho la palla al piede sono intelligenti da giocare di scegliere le giocate giuste ci fermiamo per la pubblicità torniamo subito dopo siamo alla fine del nostro telegiornale non ci sono infatti altre notizie vi ricordo che questa edizione potrete riseguirla su internet sulla nostra pagina facebook l'indirizzo lo vedete in sopra impressione vi lascio adesso al meteo e poi alla programmazione della rete grazie per averci seguito sin qui e a tutti voi buon proseguimento le previsioni del tempo del 19 settembre cielo sereno o parzialmente nuvoloso venti deboli mari calmi le temperature da 16 a 38 gradi a Catania e nell'Interland 25 gradi la minima 38 la massima a Catania a Catania a Catania